Quell'anno il 4 novembre cadeva di lunedì. Si decise di non anticipare né posticipare le manifestazioni per la festa dell'unità nazionale alla domenica precedente o successiva perché quello era un 4 novembre da ricordare e commemorare nella sua giornata. Era il 1968 ed erano trascorsi 50 anni dalla fine della grande guerra. Per una congiunzione astrale che aveva il sapore della concordia universale, il 4 novembre vedeva uniti insieme potere temporale e spirituale. Il calendario indicava come santo del giorno Carlo Borromeo, cardinale e arcivescovo milanese noto in tutta la penisola grazie alle pagine evocative del Manzoni e amato dai Lombardi al pari del patrono Sant'Ambrogio. L'organizzazione della mattinata era il banco di prova del primo sindaco donna che il paese avesse mai avuto. Tutto doveva essere perfetto nel piccolo comune di Porto Ceresio affacciato sul lago. Niente avrebbe potuto scalfire quella giornata che sarebbe dovuta rimanere negli annali come il simbolo dell'efficienza femminile a dispetto di un mondo maschilista che in quel 68 cominciava a declinare e che comunque rimaneva dominante nella mentalità dei piccoli agglomerati di provincia. Anna Carolina Ratti non si era fatta dunque attendere. Di buon'ora aveva iniziato a prepararsi vagliando l'abbigliamento più idoneo. Donna all'avanguardia non intendeva tradire i valori della signora tradizionale indirizzata dal motto est modus in rebus. Optò per uno stile che fosse il riflesso della sua linearità mentale. In prima fila alla messa delle dieci aveva onorato San Carlo e la bandiera italiana con fede e serietà impeccabili. Avvolta nel cappottino in feltro color magese il tocco di classe lo conferiva il collo di visone. Alla fascia da sindaco spettò completare il paradigma di coerenze e professionalità. La banda cittadina già schierata in piazza Bossi lasciava diffondere per l'aria il borbottio di qualche ottone amalgamato alle folate che di tanto in tanto provenivano più acute dal lago lì a pochi metri spettatore onnipresente del monumento ai caduti. La prima tromba un signore dai baffi brizzolati stentava ad intonare le tre note che compongono il silenzio. La guerra egli l'aveva vissuta sulla propria pelle ne ricordava ogni acre odore di morte di vanità di stoltezza. A poche centinaia di metri dalla piazza l'orologio della torre svettante che da decenni immortalava Porto Ceresio in ogni cartolina turistica aprì l'evento con i suoi undici rintocchi portati dal vento. Gli alpini incoronati dei loro cappelli con la penna nera erano pronti a sfilare e depositare la corona dall'oro con il tricolore ai piedi del fante. Anna Ratti si assicurò svelando un briciolo di ansietà che il suo orologio da polso segnasse la medesima ora del campanile. Erano proprio le undici. Il momento era giunto ma mancava all'appello l'autorità per eccellenza che da 50 anni il piccolo borgo custodiva al pari di un raro gioiello. Guglielmo Litz non si era presentato in chiesa. Stizzita per ritardo altrui il sindaco decise di non scomporsi troppo. Le avevano insegnato che è obbligo dei personaggi illustri farsi attendere. Solo lei era conscia dell'assenza che sperava a veder presto svanire. La piazza, gremita fino a scoppiarne, brulicava dei bambini delle scuole elementari accompagnati da genitori e maestre. All'interno di file che a stento riuscivano a rimanere composte sventolavano le bandierine tricolori. Avevano tutti imparato a memoria la leggenda del piave e non vedevano l'ora di esibirsi. Il professor Brambilla, attento studioso di storia locale, come ogni anno fremeva nel suo paletoffo derato di flanella per esporre il suo saggio sulla ben nota linea Cadorna. La cosiddetta linea di difesa alla frontiera nord era in realtà passata alla storia per non essere mai stata coinvolta nelle operazioni belliche, lasciando tuttavia dietro di sé un fascino ancora vivo con le sue fortificazioni che costeggiano il Monte Grumello fino a mimetizzarsi dietro alla stazione ferroviaria. Il maresciallo russo e l'appuntato Bartolotta facevano da colonna ai lati del palco. Davano l'impressione di essere padre e figlio, entrambi con i baffetti alla Clark Gable e un incipiente pinguedine che rischiava di divenire ingombrante per il loro mestiere. L'uno siciliano doc, l'altro lombardo doc, si sarebbe detto che fossero stati separati alla nascita. Don Antonio era già posizionato a benedire i vivi e i caduti. Le lancette dell'orologio da polso del sindaco Ratti scandivano l'accavallarsi dei secondi minuti con la velocità che solo chi interpreta il tempo in maniera soggettiva percepisce. Non era trascorso più di un quarto d'ora, ma per la signora Anna appariva eterno e irrimediabile quel ritardo. Dell'autorità tanto attesa, ancora nessuna traccia. Stava quasi per rinunciarci, stava per salire definitivamente sul palchetto allestito per dare avvio alla celebrazione con il discorso che, perfetto, aveva scritto lei di suo pugno. Avrebbe iniziato con il dire che ricordare è giusto, è un dovere etico e civile, è giusto onorare, ma ancor più giusto essere coscienti attraverso l'educazione che la storia non dovrebbe soltanto glorificare in nome di una vittoria la guerra, ma dovrebbe metterne in luce soprattutto l'orrore affinché armarsi possa non essere mai contemplato tra le decisioni di cui dispone l'essere umano. E sì, Anna Carolina Ratti aveva provato come si prova una scena teatrale questo discorso. Sapeva perfettamente quando sarebbe stato il momento di accentare di più quella specifica parola, quando avrebbe rivolto lo sguardo al caro Francesco ritornato dal fronte mutilato, quando avrebbe dolorosamente cercato lo sguardo di quelle bambine diventate donne e madri, di quei bambini diventati uomini e padri, rimasti orfani cinquant'anni or sono. Sarebbe accaduto un istante prima di quando avrebbe attirato l'attenzione di quei giovani fanciulli con le bandierine festose a cui avrebbe voluto lasciare in eredità l'auspicio di un mondo senza guerre. Era ormai decisa Anna Carolina Ratti ad iniziare. Un'ultima sferzata proveniente dal lago di un verno novembrino decisamente presago d'inverno le fece di improvviso volare via il cappello con le larghe falde intonate al cappottino. Come rapiti dal volo di un uccello mai visto tutti volsero i nasi all'insù godendo della danza che le folate ballavano insieme al cappello. Fu in quel momento che dal fondo della piazza si udirono strida concitate. Affannato correva per difiato angelo il pescatore e urlava, urlava e piangeva, piangeva e urlava non si riusciva a decifrare bene cosa tra i sibili del vento, i soffi degli ottoni, il vociare allegro dei bambini e il parlottare più contenuto degli adulti. Sconcertati e increduli per istinto tutti i presenti si accalcarono creando una sorta di corridoio in cui l'uomo potesse addentrarsi. Il passaggio lo condusse ai piedi del piccolo palco. Stremato dalla corsa angelo si accasciò quasi inginocchiandosi al cospetto del sindaco e dopo un frammento di riposo con un filo di voce disse l'hanno trovato morto al lago.